Questa è la prima volta di questa campagna, non è mai più a seguiti, noi stendiamo di continuare la ricettata, di guidare ancora, se questo ci sarà il nostro, di oggi sulla strada, quando ci staremo, oggi, per fare il testo, ad ogni lotta che faremo, da qua, a Natale, continuare sempre nel scuolo a lottare, con il governo, con il governo che non ci vuole in questa città, con il profegio dei diritti della Lega, siamo uniti, siamo occidenti e non ci fermeranno! La sua morte è la morte!